Io non direi che c'è spazio per un centro, no, ormai il sistema elettorale, anche la nostra città si è polarizzato, c'è spazio semmai per un movimento civico. Secondo lei questo candidato, questa figura che potrebbe emergere sarebbe destinata poi al ballottaggio con Ivorossi? Penso di sì, questo è possibile, però se è un movimento civico che potrebbe essere fatto da più liste civiche... Il nome ancora non c'è, anche se molte sono le ipotesi dall'assessore Colasi, uscito di recente dal PD, ad Alberto Salmaso, consigliere comunale ex PDL. Il candidato però deve provenire dalla società civile, un volto giovane e nuovo, settimo contarto, ex sindaco di Padova e volto storico della democrazia cristiana, è convinto che un insieme di liste civiche possa essere la valida alternativa a Ivorossi e le prossime amministrative. Per il candidato principale che è Ivorossi non è andata tanto bene, perché il 56% dei votanti non l'ha votato, quindi devono fare una riflessione. E alla sorpresa Francesco Fiore dice... È una nuova generazione ed è bene che le nuove generazioni facciano le loro esperienze specifiche. La città ha bisogno, come tutta la società italiana, di uscire da questa crisi che ha massacrato interi ceti sociali. Ora si deve attendere che si esprima Forza Italia e il Movimento 5 Stelle. L'importante, dice Gottardo, è che non ci sia a Padova una protesta senza rappresentanza. Dobbiamo evitare che il sindaco di Padova sia espressione di correnti o sottocorrenti nazionali che nulla hanno a che fare con gli interessi della città.